Oggi ci sta lavorando la Commissione Antimafia, che è una commissione come voi sapete che ha poteri d'inchiesta e quindi credo che bisogna vedere dove riesce ad arrivare la Commissione Antimafia e poi valutare se c'è bisogno di qualcos'altro perché è anche un tema di tempistiche per istituire una nuova commissione ci vogliono, obiettivamente ci vuole qualche mese temo per cui oggi abbiamo già una commissione che ci sta lavorando e penso che bisogna farla lavorare nel miglior modo possibile all'esito del lavoro che farà la Commissione Antimafia secondo me va valutato se servono altri strumenti il punto è che bisogna arrivare fino in fondo perché quello che sta emergendo è obiettivamente incredibile e vergognoso per uno Stato di diritto